Una scuola che riapre una struttura a disposizione di quelle che saranno le classi del domani, un bel risultato che sicuramente inorgoglisce, un punto d'inizio e non d'arrivo. Esattamente così, un punto d'inizio, un'opera finalmente conclusa, altre sono in corso. Voglio ricordare che qualche tempo fa inaugurammo le aule a Forio ripristinate in attesa dei lavori di ricostruzione della scuola. Lì sono in corso, a Casamicciola numerosi progetti stanno andando avanti. Insomma è un inizio appunto, io penso che i prossimi mesi saranno quelli di un decollo definitivo di un processo di ricostruzione difficile, ricostruzione pubblica, ricostruzione privata, ma che sta andando avanti, sta procedendo finalmente. Parlava di decollo, infatti la percezione è proprio che negli ultimi tempi i processi legati alla ricostruzione in genere abbiano ingranato le marce alte. Posso chiederle qual è stato il punto di svolta, se c'è stato un punto di svolta o semplicemente dei processi avevano i loro tempi tecnici e basta? Il punto di svolta è da individuare nel complesso delle misure che noi abbiamo adottato con l'ordinanza numero 8 ad aprile scorso. Allorquando abbiamo definitivamente approvato il piano di messa in sicurezza del territorio, definito gli edifici che potevano partire per essere ricostruiti, quelli che dovevano aspettare, e devono aspettare ancora un po' il piano della ricostruzione e i progetti di messa in sicurezza, è ricomposto tutte le regole necessarie successive all'evento catastrofico del novembre 2022. In altre parole abbiamo provato a comporre all'esito di una faticosa, lunga, complessa mediazione con le altre istituzioni, la Regione, l'autorità di bacino, i comuni, la soprintendenza. Abbiamo ricomposto le volontà, sintetizzato e oggi, da qualche mese, tutti sanno ciò che è possibile fare e ciò che non è possibile fare lo sarà a breve, quando finalmente il piano della ricostruzione della Regione sarà di nuovo adottato e credo che sia imminente. Onorevole, a pochissimi chilometri da qui, a meno di due chilometri, mentre inauguriamo una scuola all'Acquameno comincia ad andare giù il capriccio a Casa Micciola, volendola interpretare dal punto di vista metaforico anche lì il segnale di voler cancellare un qualcosa e ripartire. Alcune demolizioni sono rigenerative e quella lo è, si rigenera uno spazio, una piazza, una prospettiva a fronte di un edificio che non aveva alcun valore storico-culturale e che era gravemente compromesso. Non è un'opinione mia ma sono i provvedimenti e i pareri del comune, del sindaco di Casa Micciola che ha avuto molto coraggio e determinazione nel prendere quella decisione, della sovrintendenza che ha rilevato che non vi erano valori culturali da tutelare, storico-culturali e del demanio con il quale abbiamo finalmente composto una carella che andava avanti da moltissimo tempo. Adesso lì deve venire su una bella nuova piazza che darà nuova luce, nuova prospettiva al centro storico di Casa Micciola. L'ultimo telegramma, la soddisfazione umana, prima ancora che professionale, nel restituire sia pure con l'aiuto di tutte le istituzioni che lei ha citato una scuola a tanti bambini. È una bella soddisfazione. Mi è capitato nelle funzioni che ho esercitato in questi anni per fortuna di inaugurarne tante, di finanziare più di 450 scuole nel centro Italia è qui un numero molto rilevante, più di 10 scuole. Insomma, quando riapre una scuola si riapre una finestra sul futuro quello delle bambine e dei bambini che la frequenteranno.